Il 28 luglio 2023, alle 17.30, nei dintorni dell'aeroporto di Catania, vi era un aereo che stava percorrendo una rotta che disegnava qualcosa di molto equivoco. In questo video desidero spiegarvi nel dettaglio che cosa è successo, perché se ne sono dette di ogni. Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Quando succedono questo tipo di eventi, naturalmente siamo tutti portati a pensare che chissà cosa sta succedendo, insomma è anche scontato perché non è qualcosa che succede tutti i giorni che un aereo attraverso la sua rotta disegni qualcosa di definito. In realtà vi dico come piccola anticipazione che gli aerei possono disegnare con la propria rotta anche dei disegni molto complessi, volutamente, con l'utilizzo di determinati waypoint, che sono dei veri e propri punti rotta, che vengono inseriti all'interno del computer di navigazione, ovviamente in maniera preventiva, e che poi se seguiti, naturalmente un po' come il gioco di unisci puntini, possono comporre delle immagini anche abbastanza complesse se ne sono visti degli esempi in passato. In ogni caso l'evento di quest'oggi sembra qualcosa anche di abbastanza offensivo. Si è detto infatti su alcune testate che i piloti stanchi di attendere delle lunghe attese, insomma, causate dal fuoco, dall'incendio, che si è verificato qualche settimana fa all'aeroporto di Catania, hanno disegnato questo oggetto nel cielo, appunto, per, insomma, mandare a quel paese i controllori di volo che, appunto, stavano gestendo quest'aereo. Ma, come vedremo, la realtà è molto, molto diversa. Eh, ma Pasquale, ormai tu parli solo di cose di attualità, non sei più quello di una volta che ci spiegava le cose. Naturalmente, chi mi conosce da tempo saprà che io colgo la palla al balzo di questi eventi, diciamo, di attualità, che poi è un po' esagerato chiamarli così, per poter parlare di qualcosa che avviene dietro le quinte, perché, sapete, dietro la porta blindata del cockpit è sempre difficile capire cosa sta avvenendo. Ma partiamo dal principio. Di che cosa stiamo parlando? Il 28 luglio 2023, all'incirca alle 15.10, decollava dall'aeroporto di Francoforte, il volo Lufthansa 306. Si tratta di un volo che collega Francoforte a Catania, un volo di linea, normalissimo, un volo passeggeri, che trasportava, appunto, passeggeri dall'aeroporto di Francoforte a quello di Catania. Il volo decolla senza nessun tipo di problemi, prosegue quasi in linea retta verso l'aeroporto di Catania, dove inizia un avvicinamento, e un avvicinamento per la pista 08. La pista 08 all'aeroporto di Catania è la pista che dalla terra punta verso il mare. Durante l'avvicinamento qualcosa non va, ora vedremo cosa. Infatti l'aereo decide di interrompere la procedura di avvicinamento e riprendere quota. Ecco, partiamo proprio da questa fase del volo, quindi avvicinamento per, se vogliamo essere tecnici, un ILS Zulu per pista 08, quindi un avvicinamento strumentale per la pista 08, viene interrotto. Per quale motivo? Il motivo di questa interruzione risiede nel bollettino meteo, il cosiddetto METAR, che possiamo andare a recuperare per l'aeroporto di Catania. Vediamo che non c'è tanto da segnalare, se non che questo R08WS. Questa piccola notazione in realtà è estremamente importante, perché questo è un riporto di una condizione pericolosa per il volo. Infatti si tratta di wind shear. Il wind shear è un fenomeno, appunto, pericoloso per il volo, che consiste in un brusco cambiamento della direzione della velocità del vento, che causa poi in seguito anche perdite o guadagni di quota e prevede una manovra che va effettuata molto rapidamente. Questo perché il wind shear può tranquillamente, nei casi più gravi, portare l'aereo in collisione con il terreno, quindi la manovra va iniziata immediatamente affinché la sicurezza venga mantenuta. R08WS sta per runway 08 wind shear, cioè pista 08 con riporto di wind shear. Quindi proprio per la pista dove i nostri piloti stavano cercando di atterrare era riportato il wind shear. E quindi proprio a causa del wind shear i piloti hanno iniziato una procedura di mancato avvicinamento. Ora, la procedura di mancato avvicinamento è una procedura molto precisa, questo perché è previsto che venga volata in tutte le condizioni meteo, quindi anche nel caso in cui le condizioni meteo siano pessime e la visibilità non sia ottimale. Per questo motivo la procedura di mancato avvicinamento nella fattispecie per la pista 08, anzi o meglio per l'ILS Zulu della pista 08 nell'aeroporto di Catania, prevede che i piloti continuino sostanzialmente verso la pista, sorpassino la pista e si portino su un punto chiamato Indax, che si trova appunto a 11 miglia dalla testata pista proprio sul prolungamento della pista 08. Una volta arrivati su questo punto i piloti devono iniziare una holding secondo la procedura. Che cos'è una holding? È un circuito d'attesa che consiste in sostanzialmente un tratto rettilineo, una virata di 180 gradi, un altro tratto rettilineo e poi un'altra virata di 180 gradi. Questa è una procedura di attesa standard, nel senso che le holding sono previste appunto dalla regolamentazione aeronautica e sono composte in questo modo. Vi è un punto sul quale la holding è cosiddetta intestata, quindi sulla quale la holding viene costruita, vi è un tragitto d'ingresso, un segmento d'ingresso che ha sostanzialmente una track, possiamo chiamarla inappropriatamente prua, poi una virata o a destra o a sinistra, il segmento in uscita che dura un certo tempo o una certa quantità di miglia, una nuova virata di 180 gradi e poi si ritorna sul segmento d'ingresso e si continua a girare un numero indefinito di volte per quanto è necessario, per il tempo che è necessario. La holding prevista sul punto index è praticamente opposta alla direzione di provenienza dell'aereo e questo è normale perché le holding vengono costituite da chi si occupa di stilare le procedure strumentali in dei punti dove non vadano a dare fastidio ad altri spazi aerei, non intersechino ostacoli naturali o artificiali e ovviamente questo determina le caratteristiche della holding, quindi il braccio d'ingresso, il punto, naturalmente in questo caso questo punto index, se la holding viene volata con virate tutte a destra o tutte a sinistra e la distanza, che può essere una distanza, ripeto, temporale o in miglia, dei segmenti rettilinei. Dove troviamo tutte queste informazioni? Le troviamo nell'IP Italia che è disponibile gratuitamente per chiunque a seguito di una registrazione che è anch'essa gratuita e che è fornita da ENAV, l'ente nazionale di assistenza al volo. Sul sito di ENAV registrandosi è possibile accedere alle varie cartine, vi ho spiegato in un video come fare e quella cartina che state vedendo adesso è appunto quella che troviamo nell'IP Italia. E qui vediamo com'è fatta questa holding su questo punto index. Sostanzialmente l'aereo arriva dopo la procedura di mancato avvicinamento e deve entrare nella holding, solo che non è possibile entrare a discrezione del pilota, ma bisogna seguire uno dei tre ingressi previsti dalla regolamentazione aeronautica che sono appunto solo tre, quindi il pilota non si inventa niente. Vi è un ingresso diretto che si esegue nel caso in cui il pilota arrivi direttamente verso il punto, quindi la direzione di provenienza è per lo più quella del segmento di ingresso e non è questo il caso, in cui il pilota arriva sul punto index, prosegue, passatemi il termine, contromano sul segmento rettilineo, esegue una virata a sinistra che lo riporta sul punto index e poi da quel punto ricomincerà a girare nella holding nel senso corretto. E poi c'è il terzo caso, che appunto è quello pertinente in questo caso, una procedura detta teardrop dove il pilota arriva sul punto e se è necessario invertirsi, come in questo caso, apre a sinistra nella holding, significa che vira a sinistra, si allontana di una certa quantità di spazio e poi rivira a destra per rientrare nel segmento di ingresso, quindi sul punto in cui è intestata la holding. Ecco, proprio nell'ingresso il pilota inizia a disegnare la prima parte anatomica, perché appunto compie una virata che sembra disegnare sostanzialmente un cerchio per ritornare sul punto index. Una volta arrivato al punto index, inizia a seguire la holding correttamente, così come previsto dalle procedure strumentali, disegnando la seconda parte anatomica. Ma qui succede qualcosa che normalmente non succede, e cioè un aereo all'aeroporto di Catania è pronto per il decollo. Il decollo è solitamente meno soggetto al fenomeno del wind shear, soprattutto a questo tipo di wind shear, perché il wind shear che era presente a Catania quel giorno non era causato da fenomeni meteorologici e per questo motivo solitamente, diciamo che per gli aerei in decollo è un po' meno significativo, mentre per gli aerei in atterraggio può essere veramente molto pericoloso. Ecco, per questo motivo i controllori del traffico aereo dell'aeroporto di Catania, che sono dotati di radar, quindi riescono a spostare gli aerei come vogliono, non hanno bisogno che rimangano nelle procedure in eterno, chiedono all'aereo Lufthansa di prendere una prua sud per allontanarsi dalla zona di decollo, appunto perché quella zona sarebbe stata presto interessata dall'aereo in decollo. Quindi l'aereo Lufthansa prende una prua sud e inevitabilmente inizia a disegnare la terza parte anatomica di questo disegno. A questo punto sicuramente i piloti Lufthansa avranno chiesto di ritornare sull'aeroporto per un nuovo tentativo, solo che essendoci il wind shear sulla pista 08 chiedono per un avvicinamento per pista 2.6, sperando che appunto per la pista 2.6 il wind shear non sia presente. Ed è a questo punto che il controllore assegna una virata di 180 gradi per farli ritornare sostanzialmente al punto index o nei dintorni di quel punto e farli ricominciare un avvicinamento, in questo caso per la pista 2.6, cioè quella che dal mare dà verso la terra. E qui il disegno è completo. I piloti tentano un nuovo avvicinamento per la pista 2.6, ma quasi certamente trovano wind shear anche lì, tanto che eseguono una procedura di mancato avvicinamento nuovamente, e lo si vede perché proseguono parallelamente alla pista, e poi con una virata a sinistra chiedono una diversione a Malta, appunto perché il carburante a bordo non è infinito ed è necessario naturalmente tutelarsi per la sicurezza del volo. Quindi, come è facile capire, non c'entrano niente le volontà dei piloti, soprattutto i piloti di linea, specialmente i piloti di linea non possono andare a zig zag nello spazio aereo come preferiscono per disegnare quella forme di varia natura. Quindi va da sé che in questo caso si è trattato, come abbiamo visto, di una serie di situazioni che poi hanno portato l'aereo a disegnare questa strana rotta. Bene, il video termina qui, io spero che vi abbia dato qualche informazione per chiarire questo strano evento, questo strano comportamento dei piloti, che poi tanto strano non è come abbiamo visto. Loro sono i miei sostenitori che su Patreon mi aiutano a portare economicamente avanti questo progetto. Se volete partecipare anche voi e diventare sostenitori, sappiate che nella descrizione c'è un link per il sito di Patreon dove trovate tutte le informazioni per poter aderire. In cambio del vostro supporto economico ci sono dirette a tema libero o a tema tecnico e video call. Sono molto interessanti, se siete molto appassionati di aeronautica sono sicuro sono molto, molto curiose e appunto stimolanti. Tutte le informazioni quindi nella pagina di Patreon che a sua volta si trova in descrizione. Come sempre non posso che ringraziarvi per la vostra attenzione e darvi appuntamento a un prossimo video.